di nuovo buongiorno dall'islanda orientale prosegue la nostra giornata che abbiamo dovuto riorganizzare perché nella zona dove contavamo di andare oggi c'è tempesta di vento per cui abbiamo dovuto trovare un altro itinerario una specie di piano b e guardate che piano b siamo in una delle penisole più belle di questa regione d'islanda si chiama stocksnes e il paesaggio ci offre una serie di fenomeni naturali davvero incredibili intanto queste dune di sabbia che sono interessantissime non solo dal punto di vista così estetico ma anche geologico perché sono una vera e propria particolarità queste dune esistono infatti perché in questo settore dell'isola il terreno si solleva di circa 3 centimetri all'anno questo a causa del ritiro dei ghiacciai verificatosi al termine dell'ultima grande glaciazione migliaia di anni fa circa 15 mila anni fa il terreno sta ancora rispondendo a questo evento e quindi sollevando si porta in superficie continuamente nuova sabbia che sarebbe depositata sul fondo dell'oceano di questa baia poi il vento rimodella questa sabbia la trasporta e la deposita in questo punto poi questa graminacea questa pianta che si è ricavata una nicchia ecologica molto interessante riesce a colonizzare queste dune e la presenza di questa graminacea permette la formazione di questi rilievi tondeggianti mantenuti proprio dalla presenza di queste piante è un posto davvero incredibile dal punto di vista paesaggistico perché davanti a noi abbiamo queste montagne che delimitano il settore orientale di questa baia e che in tutte le stagioni offrono un panorama davvero molto bello è anche molto interessante osservare come il paesaggio cambia in funzione della marea in questo momento è bassa marea quindi la spiaggia qua sotto dove i nostri viaggiatori stanno camminando è molto ampia ma fra circa quattro ore il livello dell'acqua sarà salito e di quella spiaggia resterà soltanto una sottrile striscia di terra meglio di sabbia il clima è perfetto oggi perché con questa bella luce leggermente attenuata da una velatura i contrasti non sono troppo accentuati le montagne elevate all'orizzonte del promontorio di qualness dove andremo più tardi insomma bellissimo ci siamo organizzati per rimanere qua per poter tornare qua dopo cena perché questo è una delle zone più belle dell'islando orientale per vedere l'aurora boreale da questa posizione dietro queste montagne guardiamo esattamente a nord e quindi in caso di cielo sereno come probabilmente sarà questa notte potremo scegliere il punto migliore per fermarci e comporre la migliore inquadratura possibile naturalmente il tempo è abbastanza imprevedibile in islanda non abbiamo la certezza che stanotte sia sereno ma le previsioni ci lasciano ben sperare nel caso trovassimo tempo luminoso qui abbiamo una serie di altri punti lungo la costa scendendo verso sud ovest e ritornando verso il nostro alloggio per cui ci godiamo un po questo posto in totale solitudine e ci risentiamo nella prossima località ciao dall islanda ciao